ciao a tutti ragazzi allora questo è un giretto che faccio al volo perché devo provare un attimo questo sia l'ivrea che l'aeroporto di ciampino mi pare molto bello molto 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 bello adesso vediamo un po di farci arrivare tutto come al solito come vedete la livrea è quella di Sijet accanto c'è il nemico Ryanair ok allora chiediamo la rampa una rampa arriva è un po distante questa rampa siamo eterno a grazie a tutti 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 grazie 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 a tutti. 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 Beh l'aeroporto è molto figo, ci piace assai, fatto molto bene adesso. Grazie a tutti. 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 100. Bene, allora ascoltiamoci un po' di musica, tanto il volo dura molto molto poco e buon ascolto. Grazie a tutti. ,... Grazie a tutti. ,... ,... ,... ,... ... ... Grazie a tutti. 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 Now, a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Eccoci a tutti. a tutti. perché? a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 . 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